150 tatuatori nazionali e internazionali a Napoli per la decima edizione di Tattoo Expo, la Kermess dedicata al tatuaggio alla mostra d'oltremare, un'edizione che vuole coniugare il tatuaggio con diversi circuiti artistici. Per un pubblico sempre più eterogeneo e trasversale la possibilità di vedere tatuatori all'opera, ma anche mostre, musica, giochi, performance di body art e body painting, un seminario a tema anche per i piercing e naturalmente tatuaggi di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. La scelta è sempre molto personale, il segreto per non stancarsi mai di un tatuaggio è considerarlo un ricordo di un momento della propria vita. Il tatuaggio andrebbe preso in questo modo, è l'unico modo per cui poi non ti annoia, perché se lo fai solo per soggetto, solo per moda, fondamentalmente un domani ti puoi svegliare e non vuole più quello che ti sei fatto. Il tatuaggio fondamentalmente è una cosa un po' personale, però ora va compagliato molto di moda, l'old school, il cicano, però un po' di tutto comunque. È il discorso che è cresciuto nel mondo del tatuaggio.